Stranamente i grandi produttori di smartphone non riescono a fare dei vetri infrangibili. Chissà, forse i produttori di vetri temperati hanno degli ingegneri migliori. Probabile, visto che con un euro promettono miracoli, sopraffatto dalla paura di rompere il mio vetro. E convinto dalle pubblicità dei vetri temperati, rassicurato dalle varie martellate garantite, ho applicato anche io un vetro temperato da qualche euro. Applicarlo è semplicissimo, basta pulire il vetro con i panni in carta in dotazione e posizionare il vetro. Potrebbe rimanere qualche microbolla, ma i cinesi garantiscono che entro qualche giorno spariranno da sole. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!